La VL torna dalla Sardegna con una batosta che sconfina oltre ogni peggiore previsione. A Sassari finisce 110-74 la debacle di una Carpegna Prosciutto Basket mai in partita che incassa un meno 36 finale tracimato di quarto in quarto toccando anche un momentaneo meno 43. Cittam c'è la Lampopoulos e Totè fra i meno peggio di una prova da bocciatura collettiva attenuata da una classifica che non si sconvolge troppo. La VL resta quarta raggiunta a 20 punti da Varese. Pareggio irritante invece per l'Ital Service che a quattro giorni dagli ottavi di Coppa Italia vinti per 4-2 ritrova al palafiera la L84 Torino e questa volta finisce in parità. 1-1 con De Oliveira che mette Pesaro col muso avanti poi raggiunta nel secondo tempo. Finale nervoso con lo stesso De Oliveira che viene espulso per un secondo giallo a causa di una spinta a un componente della panchina piemontese che ostacolava una rimessa laterale offensiva. Per l'Ital Service la classifica torna in galleggiamento alla zona play-out. Facendo un passo indietro dalla domenica al sabato nel calcio la VIS Pesaro torna con un punto d'oro dal derby di Ancona. Aldel Conero finisce 1-1 con i Dorici che passano dopo 20 minuti con un rigore fortemente contestato e trasformato da Melchiorri attaccante a lungo corteggiato dalla VIS in questa sessione di mercato. L'Ancona domina per altri tre quarti d'ora con la VIS che però resta in partita e colpisce con estremo cinismo quando al 68esimo il nuovo acquisto Gerardi lavora un perfetto pallone per il colpo di testa di Gazzolini che sigilla l'1-1 definitivo. Per la VIS è già vigilia di altro match delicatissimo. martedì sera arriva la Torres nell'infrasettimanale del Benelli. In Serie D trasferta romana amara per il Fano che cade 2-1 in casa del Trastevere terza forza del torneo solo accennata la rimonta dal gol Granata di Drolè nel finale. Passando al rugby al Toti Patrignani di Muraglia la Fiorini Pesaro lotta ma è costretta a cedere l'intera posta alla capolista Lazio che fa valere la sua forza e sbanca la casa giallorossa per 8-24. Grazie a tutti.